Adesso vi voglio far vedere subito il re di questo periodo. Chi è il re di questo periodo? Vittorio Feltri. Il buon Vittorio Feltri che è stato anche protagonista da noi di una serie di momenti particolari. Personaggio di grande profilo, scrittore, giornalista, quant'altro. Uomo da cume che però ha un limite. Non bisogna interromperlo. Se lo interrompete, soprattutto magari se sono donne anche, si arrabbia e non poco. Anche con me si arrabbia. Poi mi tira l'orecchio e dice ma dove intervenire? Vittorio, il meglio di Vittorio un po'. Guarda. Voi avete ragione quando dite che la signora mi faccia concludere. Mi faccia, mi faccia, mi faccia concludere. Mi è stata fatta una domanda e io voglio rispondere alla domanda senza essere interrotto da lei anche se è carina. Che se è carina, carina. Vittorio, dai Vittorio. Io rimango e dico delle cose più corrette di quelle che dice lei. Ma le dice dopo che ho finito di parlare io. Se no è maleducata e basta. Non ho detto che vanno pulite. Ho detto che non vanno assolte. Ma che cazzo mi stai dicendo? Ma che cazzo mi stai dicendo? Sta zitta. Sta zitta. E quindi cosa bisogna fare le ragazzine? Sto dicendo che un uomo adulto ho una zitta. Zitta. Tu fai parlare soltanto quelle due signore lì, va benissimo. Direttore. Fa vita per Dio, fammi finire. Per Dio, fammi finire. Perché devi rompermi i coglioni? Non consento nemmeno a lei di dire quelle due signore lì. Esatto. Quello lo dice a sua sorella. Io credo che lei debba studiare un po' la storia alfa tesina. Mi dispiace doverglielo dire, ma è così. Forse è la storia degli ultimi anni. Ma io... No. La storia degli ultimi anni. Ma io... No. Mi dispiace doverglielo dire. Io la stimo tanto lo stesso. Però lei sembra la sua parodia di crozza. Sembra la sua parodia di crozza. Eh no. Studi la storia per cortesia. Lei mi può anche dare della cogliona. Ma studi la storia. Sono io che... Studi la storia. Non potete interrompere... Aspetti dire... Non potete interrompere il direttore. Non potete interrompere il direttore. Non potete interrompere il direttore. Eh dai ragazzi però... Alessandro, nulla di nuovo sull'orizzonte. Molto di peggio. Però... Perché è stato un grande direttore. Ma quello che io non tollero, lo dico io perché non deve dirlo lei, è che c'era sempre con le donne. È misogino. Ed è inammissibile. Anche quello che ha detto una settimana fa Vladimir Luxuria. Si deve vergognare di quello che ha detto Vladimir Luxuria. Non c'è Feltri. Eh no, io lo dico io. Tanto lo sa che... Non c'è Feltri. È stato impresentabile. Non c'è Feltri. Ma non deve attaccare le donne. No. Se la prendi con te e con me. No, se la prendi... Anche con me se la prendi... No, ma non a quei livelli. No, se la prendi anche con me. Lui... Allora, se lo interrompi per...